Il sindaco di Andrea Nicola Giorgina ha zerato la sua giunta, aprendo di fatto una crisi i cui sviluppi a questo punto appaiono imprevedibili. Adeguandosi al modo di comunicare, Grillin Leghista Renziano lo ha annunciato con un post. Quindi non uno straccio di comunicato, men che meno una conferenza stampa, un confronto con i giornalisti, la risposta a qualche domanda, una spiegazione più esaustiva su un fatto grave come l'improvviso azzeramento dell'esecutivo. Pur prendendo atto delle difficoltà di carattere personale che Giorgino sta attraversando in questo momento, il modo di comunicare saltando il confronto con i giornalisti sta portando al degrado dell'informazione. Del resto se lo fa il Presidente degli Stati Uniti, perché non dovrebbe adeguarsi il Trump de noi antri Giorgino? Chiusa questa parentesi, non certamente secondaria, veniamo ai fatti, almeno quelli che al momento ci è dato sapere. Malesseri all'interno della maggioranza sono emersi costantemente sin dall'inizio della Consigliatura e hanno reso necessari già numerosi rimpasti. Nonostante ciò, Giorgino si è sempre detto tranquillo, con una maggioranza solida e piena soddisfazione del lavoro della Giunta. Oggi poi contro ordine, camerati, fulmine a ciel sereno e giunta azzerata, sembra all'insaputa delle forze politiche, salvo forse qualche fedelissimo. Il post di Giorgino è peraltro molto pesante non solo verso gli assessori uscenti, ma anche se non soprattutto verso funzionari e dirigenti. Non tutti si sono rivelati adeguati al ruolo politico ricoperto, scrive il Sindaco, così come taluni dirigenti e funzionari non hanno mostrato negli ultimi mesi un piglio decisivo nell'affrontare questioni rilevanti per la città. Poi Giorgino rincara la dose con un passaggio durissimo su dirigenti e funzionari che sarebbero molto più attenti alle loro posizioni economiche che ad altro e prosegue chiedendo ai partiti di maggioranza una prova di maturità attraverso la designazione per il nuovo esecutivo di Uomini e Donne all'altezza del compito. Conclude poi rivendicando i risultati raggiunti sino ad ora e chiedendo uno scatto finale per completare le azioni intraprese. Il post è quello di un Giorgino che per una volta ha abbandonato le abitudini tra il democristiano e il gesuita che lo contraddistinguono e non le manda a dire. I risultati potrebbero però essere devastanti se il Sindaco chiede l'indicazione di una giunta che sia all'altezza del compito significa che quella zerata più che all'altezza era vicina alla bassezza. Insomma si è trovato a bordo qualche assessore tufo. Non fa i nomi ma li scopriremo prossimamente. Oltretutto molti assessori ci sono dimessi dal Consiglio Comunale ed ora rischiano seriamente di andare a comporre il gruppo degli Sgaramella Boys cioè di fare la stessa fine del povero Pietro Sgaramella sedotto e abbandonato visto che si dimise da consigliere per fare l'assessore e dopo pochi mesi fu defenestrato. Ma forse il passaggio più duro è quello nei confronti di funzionari e soprattutto dirigenti. Noi lo diciamo da tempo. Ormai come per i consiglieri comunali esistono i dirigenti di maggioranza e i dirigenti di opposizione. E' un'anomalia diffusa non solo ad Andrea oltre al dirigente Mano De Pedra che invocando legalità brilla per eccessi burocratici attento alla virgole al cavillo rallentando l'azione amministrativa c'è il dirigente vicino al sindaco che gli firma anche la cartigenica e quella all'opposizione che gli crea ogni possibile difficoltà. Non sappiamo se Giorgino nel suo post denuncia una situazione come quella descritta. Immaginiamo sarà più chiaro nei prossimi giorni quando si fanno denunce così pesanti non si può essere generici. Vedremo come si procederà con la certezza che le prossime settimane non saranno certamente facili per Giorgino e conseguentemente per gli assetti politico-amministrativi della città.